Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Bentrovati, un saluto al nostro pubblico qui in studio, ambedue le gradinate, Gabriella. Un saluto a chi ci segue da casa. Dopo nove mesi i prezzi sono tornati a scendere. Una bella notizia, dirà qualcuno, ma per la verità non è proprio così, anche perché il ragionamento è semplice. Si diminuiscono i prezzi quando non si vende, e se non si vende vuol dire che i consumi non decollano. E questo significa ancora che la tanto agognata ripresa è ancora, è davvero molto molto lontana. E lo hanno confermato tutto questo, anche i grandi del pianeta, riuniti a Shanghai nei giorni scorsi per il G20. Sì, e nel nostro paese i consumi non decollano, anche perché i cittadini evidentemente alla ripresa non credono. E insomma, temendo tempi bui, invece di spendere, preferiscono mettere da parte i soldi. Insomma, di risparmio. In risparmio, pensate, il tesoretto accantonato dagli italiani lo scorso anno ammonta ed è aumentato di circa 70 miliardi di euro. In questo quadro ci porremo, no? E porremo ai nostri ospiti delle domande. Cosa può e cosa deve ancora fare il governo italiano per rilanciare l'economia? L'ipotesi di un taglio delle tasse, di cui si parla finalmente in questi ultimi giorni, è un'ipotesi concreta e risolutiva? I timori degli italiani che continuano a risparmiare sono fondati ed ancora, se proprio necessario risparmiare, qual è il modo migliore per tenere al sicuro, investire e tenere al sicuro i propri soldi? E beh, queste, Gabriella, sono le domande, lo dicevamo, che porremo ai nostri ospiti, che raggiungiamo in postazione attualità. Tante domande che ci coinvolgono, generano un po' di apprezzione, dunque ci faremo aiutare da loro. Benvenuto Luigi Paganetto, economista, docente all'Università di Tor Vergata di Roma, bentornato professore. Benvenuto anche Sergio Maria Battaglia, segretario generale Un'Impresa. E un bentornato anche a Fabrizio Premuti, segretario nazionale dell'Associazione di tutela dei consumatori Consumer Italia. Grazie. Allora Battaglia, io partirei proprio da lei, no? E dal report, dalla ricerca che avete effettuato per il 2015, dalla quale emerge che gli italiani sono tornati a risparmiare. Sembrerebbe una bella notizia vista così, no? Ma cosa c'è di negativo in tutto questo? Ma di negativo c'è, come già avete accennato voi prima, che comunque i prezzi sono scesi. Quindi il costo di quasi tutti i prodotti di consumo sono scesi. Quindi stiamo in deflazione. Da quando c'era crisi, ormai qualche anno, è cominciata nel 2008, abbiamo perso nove punti di PIL. Sapete quando abbiamo perso nove punti di PIL in un altro periodo del nostro paese? Nel periodo 1939-1943. Quindi questo radice lunga. Non era proprio un bel periodo. Non era assolutamente un bel periodo. Per capire, appunto, il PIL, anche secondo le ultime stime dell'Ocse, è diminuita, è stato rivisto sicuramente al ribasso e non al rialzo. Quindi è chiaro che c'è questo timore, nonostante appunto i depositi in banca siano aumentati, c'è questo timore ovviamente di investire, di spendere. Non riguarda soltanto le cosiddette famiglie, riguarda anche le imprese che non investono. Ecco, questo volevo dire. E anche le imprese straniere, ovviamente. Abbiamo noi dei problemi che comunque ci trasciniamo, io direi, ormai da tantissimi anni. Sarà inaugurata a breve, ce l'abbiamo fatta, non so dopo quanti anni, forse è meglio neanche dirlo, a inaugurare la Sarenno Reggio Calabria. Abbiamo 898 cantieri incompiuti. Un paese che vive di turismo, di arte, di enogastronomia, non ha infrastrutture adeguate. Lei parlava di depositi bancari. Lì che sono finiti i risparmi, i soldi, sia delle famiglie che delle imprese? Ma credo sicuramente sì. I dati che noi abbiamo rielaborato e comunque studiato ci dicono questo, che nel complessivo, ovviamente non soltanto comprese le imprese e le famiglie, abbiamo rispetto al 2014, i dati del 2015 ci dicono più di 70 miliardi in più di depositi presso le banche. Per dirla in soldoni, diciamola così, li tengono sia le famiglie che le aziende sui conti correnti, sui depositi bancari, come se fosse sotto il materasso, diciamo così. Praticamente sì. Per i tempi peggiori? Per i tempi peggiori, chissà poi quando è che arriveranno quelli migliori. Quindi il problema è questo, che in realtà già il governo Monti, quando si insediò, disse a gennaio faremo le misure per la crescita. Io non ho capito a gennaio di quale anno, però la crescita sostanzialmente, concretamente non mi pare che finora, nonostante i segnali recentissimi di poche ore fa, insomma ci sia una crescita. E parleremo di questi segnali, che sono segnali importanti. E il quadro, insomma, tracciato da battaglia legittima, le preoccupazioni degli italiani, le vostre preoccupazioni che oggi più che mai vogliamo coinvolgere nella nostra riflessione. Eugenia? Sì, fateci sapere se anche voi siete tra coloro che non vedono particolarmente rosi o il futuro. E diteci se siete riusciti a risparmiare qualcosa in questo nel 2015 o se invece avete dovuto dare fondo ai vostri risparmi. Ancora mutui, affitti o spese mediche? Raccontateci anche i capitoli di spesa che fate più fatica a gestire nella vita di tutti i giorni. Potete farlo telefonandoci al numero verde 822-8896 e lasciandoci un messaggio. Potete scriverci a siamonoichiocciolatv2000.it, potete mandarci un tweet a siamonoitv2000 o volendo potete venirci a trovare sulla nostra bacheca di Facebook. Allora professore, ci affidiamo la sua chiarezza espositiva, perché in questo momento, ci dicono tutti gli analisti in Italia e in Europa, è deflazione. Perché? Innanzitutto spieghiamo che cos'è la deflazione e perché non dobbiamo considerarla una buona notizia. La deflazione è facile, è l'inverso dell'inflazione. L'inflazione, i prezzi crescono, la deflazione, i prezzi diminuiscono e normalmente l'economia cresce poco o diminuisce. Questa è tecnicamente quella che chiamiamo deflazione. sul perché dovremmo fermarci parecchio tempo a parlarne, non è questo il momento. Diciamo che in generale c'è un sistema economico globale che porta fenomeni che non sono più come in passato fenomeni lineari, cioè che vanno sempre nella stessa direzione. Prima noi eravamo abituati a dire che c'era la crisi, poi c'era la ripresa, poi magari c'era la crisi, ma intanto per alcuni anni abbiamo la ripresa. L'economia cammina. Tant'è vero che le imprese, e qui posso avere la conferma, facevano i loro conti dicendo che quest'anno venderemo il 3% in più, l'anno scorso abbiamo venduto il 4%, il prossimo venderemo il 5%. Ma c'era una tendenza. Adesso non è più facile capire la tendenza. E qui è il punto, perché non dobbiamo continuare a pensare come pensavamo nel passato, che ci sia una tendenza che una volta che si stabilisce va avanti. Ci sta dicendo professore che il cambiamento è epocale e d'ora in poi dovremo tenere conto. Esattamente. Anche perché, guardiamo un po' il quadro internazionale, prima c'era un attore dominante al di là dell'Atlantico e a di qua, l'Europa da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. Si diceva, credo ve lo ricordiate, la locomotiva degli Stati Uniti non tira, oppure tira. E allora va bene se tira e non va bene se non tira. Oggi nulla è scontabile. Oggi non è soltanto quello. Oggi ci sono tanti altri elementi di cambiamento possibile, perché ci sono i paesi emergenti, sud-est asiatico, la Cina e quant'altro, che influenzano l'andamento delle economie internazionali. E quindi è difficile pensare che abbiamo di fronte una tendenza molto precisa e molto chiara. Insomma, mi pare di capire, caro Premuti, che qui non c'è da star tranquilli. I segnali che arrivano non sono senz'altro positivi e l'incertezza regna. Io vorrei che lei partisse da questo titolo della stampa, che guardiamo insieme a lei e insieme ai nostri telespettatori, che un po' ci dà conto del futuro, dove si dice se il futuro sarà stabile, già questo è un successo. Insomma, mi sembra che la situazione sia più complessa di quella che sembra, Premuti. Assolutamente sì, anzi questo titolo qui dovrebbe farci riflettere ben altro e ben di più. Se va bene sarà stabile. Il problema è che oggi viviamo tra i consumatori, un periodo di sfiducia, e questo va detto. Un periodo di sfiducia che si associa alle imprese, figuriamoci. Ma il periodo di sfiducia dei consumatori si associa anche a un periodo di insicurezza, perché sarà pur vero che si sono generati più posti di lavoro, però è altrettanto vero che siamo fermi con la disoccupazione all'11,5%. Questo significa, e parliamo della forza lavoro, dalla quale è esclusa tanta e tanta gente che il lavoro non lo cerca più, perché ci ha rinunciato, e anche questo va detto. Allora, il problema vero è che il futuro non è rosio per l'insicurezza che c'è tra i consumatori e tra i cittadini in genere. Tra l'altro, è vero l'accumulo sicuramente di risorse sulle banche, ma è pur vero che nelle banche la sfiducia si è accentuata ancora di più in questo ultimo periodo, dove abbiamo visto purtroppo quattro banche fallire. E quindi sarà pur vero che una parte di consumatori accumula, ma quello non è più visto come un salvadanaio. Senta Premuti, lei ha dato un dato, quello della disoccupazione, è ferma all'11,5% e lo fa anche alla luce di novità di questa mattina che riguardano i dati dell'Istat. Allora, ci aiuta? In questo senso la nostra Eugenia che ci dà il quadro, appunto, ci dice quali siano le novità recentissime. A te Eugenia. Ecco le novità recentissime. Gli assunti a tempo indeterminato sono cresciuti, nonostante gli sconti agli aziende che assumono sono scesi dagli 8.000 euro dell'anno scorso a 3.250 euro di quest'anno. Parliamo comunque di 99.000 unità in più rispetto a dicembre dello scorso anno. Gli occupati aumentano dello 0,3% e il PIL cresce dello 0,8, cifra che supera le anticipazioni che erano state date. Tutti questi dati fanno twittare Renzi in questo modo, scrive con questo governo le tasse vanno giù, gli occupati vanno su, le chiacchiere dei gufi invece stanno a zero. E non gli basta Twitter, usa anche Facebook, questo qui è il tweet. E poi andiamo anche su Facebook dove invece il Premier scrive un post che intitola post urticante per gufi e falchi e quindi dove ripete tutti i dati. Allora professore, Renzi insomma con il suo post ci dice l'Italia si è rimessa in marcia, insomma ha la faccia dei cosiddetti gufi, però gli italiani nel frattempo non si fidano. Abbiamo detto risparmio, mi metto da parte soprattutto perché a preoccuparli sono le tasse. Le tasse sono la prima preoccupazione, sono preoccupati di possibili anche aumenti. Allora io vorrei chiederle, intanto se questo... Però prima delle tasse, chiediamo un attimo un commento su queste novità di stamani, no? Sì, facciamolo globale il commento, diciamo anche alla luce di questa preoccupazione che si colloca lì. Perché Renzi nel suo post dice le tasse, abbiamo combattuto l'evasione fiscale, quindi in qualche modo cerca di rassicurare gli italiani. Allora, mettono da parte gli italiani e lo ci dica se noi siamo veramente tra i paesi più tartassati d'Europa, se è vero perché questa è insomma la voce ricorrente, e perché soprattutto secondo lei e che cosa accade altrove? Possiamo avere un metro di paragone? Poi insomma estendiamo il giudizio ai lati e al posto. Beh, intanto bisogna dire che in Europa la tassazione è in generale elevata, non esattamente come quella italiana, ma all'incirca di quella dimensione. Poi bisogna distinguere tra la tassazione delle persone fisiche, delle imprese, e certamente ci sono differenze importanti nella ripartizione del carico fiscale, che noi sappiamo ad esempio che quelli che sono dipendenti le tasse le pagano, le pagano tutte fino in fondo, mentre non necessariamente è quello che succede per tutti gli altri. Allora, la questione è che noi abbiamo in effetti un problema che è il carico che viene dalla spesa pubblica, che anche se volessimo ridurre le tasse ci rende difficile di farlo, perché la spesa pubblica deve essere sostenuta dal pagamento delle tasse, altrimenti quello che spendiamo non viene recuperato attraverso le tasse, quindi andiamo in deficit, come succede per ogni famiglia, se spende più di quello che guadagna non ce la fa. E quindi il problema di guardare in avanti... Anche alla luce di quei dati lì? Anche alla luce di quell'ottimismo? L'ottimismo è un po' difficile da immaginare, trovi concreta attuazione, perché? Perché noi abbiamo di fronte un anno in cui avremo intanto un vecchio problema da risolvere, quella delle clausole di garanzia che abbiamo dato a fronte del deficit dell'anno passato, per cui c'è il rischio di dover aumentare l'IVA nel 2017. Cosa che preoccupa tantissimo gli italiani come consumatori. C'è questo rischio oggettivo. Di qui a tornare indietro rispetto alle tasse, cioè pagare meno tasse, ne corre e dovremmo tagliare molto la spesa. Allora non mi pare che per il momento ci siano segnali che diano un taglionetto alla spesa. Però io vorrei capire bene questo punto, che mi sembra un punto delicato. Poi vorrei affrontare lo stesso punto con battaglia e premuti. Perché da un lato noi abbiamo iniziato la trasmissione dicendo il futuro sarà buono se sarà stabile. Insomma avremo comunque un quadro complesso da leggere. Oggi però leggiamo i post del nostro Presidente del Consiglio, leggiamo i dati dell'Istat e si volge invece all'ottimismo. Lei ci dice questo ottimismo, però attenzione, fate attenzione, perché lo pagheremo con nuove tasse, probabilmente con l'aumento dell'IVA ad esempio. Allora sono dati destinati a scendere quelli che leggiamo oggi o sono dati che saranno compensati da maggior sgravio, da maggiori oneri fiscali da parte degli italiani e delle imprese? Ci faccia capire bene. Io credo che qui bisogna fare una distinzione molto precisa. da una parte è quanto crescerà il nostro reddito, perché da quello poi dipende se noi abbiamo la possibilità di fare più spesa, perché se non ci aumenta il reddito, il PIL in questo caso, non è reddito delle famiglie. Che crescerà, dice l'Istat, 0,8 mi sembra, no? No, 0,8 è quello che è successo quest'anno. È il consuntivo di quest'anno. L'anno prossimo si fanno stime intorno all'1,4%. Sono stime, quindi previsioni. La questione è che la situazione internazionale, per quello che ho detto prima, non va a favore di una possibilità di crescita, perché noi siamo ovviamente influenzati da quello che succede nel mondo. Perché se cammina poco la Cina, se cammina poco il Brasile, se cammina poco gli Stati Uniti, e sono tutti i paesi che sono... Poi i dati verranno rivisti, insomma, questo è il senso. Poi i dati non consentiranno una crescita, perché noi con loro scambiamo beni e servizi. E questo è il punto fondamentale. Allora, se non aumenta il reddito, è un po' difficile diminuire le tasse. Battaglia per le imprese, e poi chiederò qualcosa anche a premuti per i consumatori. Allora, questi dati di oggi, vi fanno tirare un sospiro di sollievo, o li guardate così con un certo realismo? Ci faccia capire bene. Ma guarda, li guardiamo con un certo realismo e anche con la constatazione, mi scusi se lo dico perché ci siamo un po' stufati di questo ottimismo, ma nella realtà vediamo con i nostri dati che purtroppo non dobbiamo essere ottimisti. La disoccupazione giovanile, se ne hai parlato, un paese che non investe sui giovani, ma che cosa combina per il proprio futuro? Abbiamo una disoccupazione giovanile che ancora ci dà dei dati molto allarmanti. I giovani vanno via. Perdendo i giovani che vanno all'estero, cosa perdiamo noi? Perdiamo molto del nostro paese, anche in termini. Per quanto riguarda il debito pubblico, il professor Paganetto giustamente ha messo in rilievo. Voi lo sapete quali sono i paesi che hanno fatto peggio di noi per quanto riguarda la diminuzione del debito pubblico nell'Unione Europea? Sono la Slovenia e la Grecia, su 28 paesi. Vogliamo parlare di questo? Questi sono dati concreti. Vogliamo parlare della tassazione che da gennaio di quest'anno a livello locale è una cosa allucinante. Io devo cambiare residenza per andare a pagare meno tasse, ma questo è un paese democratico, secondo voi? Per quanto riguarda le imprese, abbiamo fatto la semplificazione di cui si parla da tanto tempo. A fatica qualcosa è stato fatto, ma aprire un'impresa in Italia quanto costa in termini burocratici? Prima si paga e poi si apre l'impresa. Negli altri paesi, non dico evoluti, ma che stanno su un livello di normalità, non mi pare che sia così, la Germania, l'Inghilterra e quant'altro. Premuti sorride, credo che sia abbastanza d'accordo sui rilievi di battaglia. Io rischio di essere messo poi tra quelli che fanno i gufi, però poi mi sembra che ci sia anche qualcuno che fa troppo il fringuello. Questa è bella. E vabbè, ma questa è quella che ci tirano un po' fuori dalla bocca, però adesso un problema ci sarà realmente se in questo paese siamo stati costretti a fare una legge che abbiamo chiamato salvasuicidi. Ci sarà un motivo, no? Quindi tanto rosio il futuro non lo vedevamo neanche nel 2012. È il paese che va avanti a forza di zero virgola, ma lo zero virgola in un andamento globale e il professore ce l'ha spiegato in maniera perfetta, che è così ondivago, non ci può portare all'ottimismo. L'ottimismo si deve basare su problemi reali, su situazioni che si concretizzano. Invece abbiamo i discount che crescono e la grande distribuzione è quella di brand, quella di marca, che invece diminuisce e va in sofferenza. Questo vuol dire che i consumatori rinunciano anche alla qualità, rinunciano anche alla spesa. Allora, come facciamo noi ad essere ottimisti rispetto alla stabilità di una ipotetica soluzione economica per i consumatori? Per le imprese hanno già parlato e non aspetta a me dirlo. Allardiamo un po' la visuale. Fra corvi e fringuelli. Allardiamo un po' il nostro spettro perché coinvolgiamo il collega Moria Lungo del Sole 24 Ore che è collegato via Skype con noi da Milano. Moria, intanto ben arrivato. Buongiorno a tutti. Allora, che aria tira oggi sul fronte economico italiano? Beh, l'aria l'avete abbastanza descritta con una certa... Ci sono più corvi o più fringuelli? Ma ci sono tanti corvi ma c'è anche qualche fringuello secondo me hanno più ragioni corvi però bisogna vedere come va il futuro. Allora, il problema è questo. L'Italia è vero. Tutto quello che avete detto io lo condivido. L'Italia cresce troppo poco. È sempre stato così. Cresceva troppo poco prima della crisi. Cresce troppo poco ora. Perché cresce troppo poco? Per tanti motivi tra cui la pressione fiscale e la burocrazia l'avete citato tutti. Ma ci sono anche fattori strutturali molto pesanti che fanno rallentare l'Italia. Quali sono? Per esempio il debito pubblico. Ci sono decine di studi che dimostrano che quando il debito pubblico in un paese è troppo alto questo zavorra la crescita ma è intuitivo capire perché. Lo ricordavo la battaglia. Lo Stato deve pagare tanti interessi e questo riduce risorse per la crescita economica. Un altro elemento strutturale che sta pesando molto e peserà sempre tantissimo è l'aspetto demografico. In Italia si sa purtroppo abbiamo una popolazione molto anziana i giovani nascono pochi bambini anzi continua a diminuire le nascite questo statisticamente economicamente riduce la crescita economica e i paesi che hanno una crescita economica più forte sono quelli che hanno un aspetto demografico molto più giovane del nostro. Questo purtroppo è un problema di tutta Europa ma l'Italia è uno dei tre paesi più vecchi del mondo come media della popolazione. Allora tutto questo rende il nostro paese assolutamente con una crescita da zero virgola giustamente come avete detto voi è difficile riuscire a scardinare queste problematiche dove può lavorare il governo il governo può lavorare sulle cose che ovviamente gli competono le tasse gli investimenti pubblici favorire investimenti privati l'innovazione l'agenda digitale tutte quelle cose che possono sbloccare un po' il bill detto questo l'Italia non crescerà mai tantissimo perché purtroppo tutte queste problematiche e poi il secondo aspetto è il fatto che l'Italia è molto legata ai paesi internazionali per cui in un momento in cui la Cina rallenta la Russia in recessione gli Stati Uniti forse torna esattamente questo difficilmente l'Italia da sola può farcela senti Moria prima battaglia parlava dei paesi europei che sono dietro di noi diceva la Slovenia la Grecia ma negli altri paesi europei le cose stanno andando diversamente? allora no i problemi sono un po' di tutti la crescita bassa la deflazione tutte queste cose sono un po' di tutti noi abbiamo delle nostre specificità che purtroppo ci trasciniamo dietro da tanto tempo la prima ripeto del debito pubblico alto anche gli altri hanno aumentato il debito in questi anni soprattutto perché per esempio hanno salvato le banche ma noi avevamo un debito già grosso prima quindi è come se uno inizia una scalata già con uno zaino pieno di sassi gli altri hanno messo qualche sasso nello zaino strada facendo ma noi siamo partiti con lo zaino pieno di sassi quindi questo è un problema è un problema nostro la burocrazia le tasse molto alte e tutto questo ma soprattutto la spesa pubblica che secondo me non va soltanto tagliata più che tagliata la spesa pubblica andrebbe razionalizzata i soldi andrebbero spesi meglio forse non meno ma meglio questo lancerebbe l'economia e poi servono investimenti ma voi lo sapete che gli investimenti in Italia calano sono in calo da tantissimi anni da quando è iniziato l'euro gli investimenti in Italia calano il credito bancario da quando è iniziato l'euro è aumentato ma tutta questa massa di liquidità che è arrivata dalle banche alle imprese fino alla crisi del 2011 non si è tradotta né in investimenti né in crescita economica quindi questi sono problemi strutturali grossi che certo un governo da solo in tre giorni non può risolvere ma bisogna iniziare una strada per risolverli ecco una strada per risolverlo il problema che mi sembra un problema complesso perché Longo da solo 24 ore ci diceva beh l'Italia da sola non ce la può fare a uscire da questo tunnel professore lo dicevo poc'anzi perché certamente non viviamo isolati nel mondo dobbiamo essere trainati da quello che gli altri vogliono che noi siamo in grado di produrre e quindi se noi come dobbiamo orientarci diceva anche Longo che qualcosina il governo potrebbe farlo ma io credo che c'è un tema molto importante che è quello di parlare di investimenti perché investimenti quindi primo punto investire di più investire di più ma per investire di più ci vuole che accada una attenzione mirata da parte del governo e delle imprese verso quelle che sono le nuove prospettive le nuove frontiere della produzione e noi siamo incapaci di farlo noi siamo potenzialmente capaci ma non ci troviamo nella condizione di farlo perché? in parte per quello che è stato ricordato perché fare un'impresa quindi impiegare delle risorse è molto più difficile nel nostro paese che negli altri abbiamo una difficoltà che è molto importante legata guardate un po' ai giovani che non trovano occupazione perché sono proprio i giovani che negli altri paesi in particolare negli Stati Uniti hanno fatto la fortuna di imprese nuove è chiaro che i giovani sono quelli che cioè le idee le abbiamo le idee le abbiamo ma non abbiamo un muso per farle crescere non abbiamo un contesto che favori questa crescita allora io credo che se noi pensiamo all'investimento una spesa è una spesa e quindi questo va a qualcuno se c'è una spesa se io devo fare una fabbrica devo costruire ci sarà chi costruisce la fabbrica dal punto di vista dell'edificio chi metterà i macchinari e ci saranno poi coloro che lavorano che prendono un salario tutto questo è una spinta all'economia ma bisogna farlo ecco guardo battaglia perché lei ci stava dicendo gli investimenti possono essere un elemento di ripartenza e ci diceva però l'Italia ha le sue zavorre e farlo è difficile anche perché non è orientato a farlo verso quello che serve battaglia ma le imprese in questo senso giocano un ruolo soltanto passivo o possono dire anche il loro guardare lungo ma guardi assolutamente noi innanzitutto non dimentichiamo un dato importante che molti fanno finta di trascurare che l'Italia è fatta principalmente da micro piccole e medie imprese il Made in Italy è ancora il terzo brand italiano i risultati dell'agroalimentare come esportazione del 2015 sono stati fantastici questa è una delle nostre principali materie prime non siamo in grado ma non perché siamo stupidi come italiani di utilizzarla al meglio come sta anche dicendo il professor Paganetto e quali sono le difficoltà? le difficoltà sono queste il costo del lavoro vogliamo parlare abbiamo giovani che hanno imparato in questi ultimi anni a fare mestieri che ormai ci siamo dimenticati che sappiamo fare abbiamo una serie di giovani che sono dei disoccupati cronici nell'area dei servizi l'istruzione l'università è stata riformata in senso positivo nel nostro paese non mi sembra la ricerca quanti ricercatori italiani sono apprezzati e sono costretti ad andare all'estero questo è un dramma la polenica di questi giorni c'è un dramma voglio dire allora il senso anche delle piccole imprese italiane nel andare sui mercati esteri deve essere molto importante ma è mai possibile che noi continuiamo a restituire i finanziamenti a Bruxelles all'Unione Europea si può ancora andare avanti così io non credo perché le nostre materie prime ce le abbiamo sentiamo un momento la nostra Eugenia dobbiamo sfruttarle io direi così abbiamo analizzato alcune cose abbiamo parlato degli investimenti abbiamo detto quali sono le zavorre parlava battaglia ad esempio del costo del lavoro Longo ma c'è l'altro elemento fondamentale che sono le tasse che pesano enormemente sulle famiglie e sulle aziende ma quando tagliamo queste tasse? per tagliare le tasse servono le risorse è quello che il governo aspira a fare detta tra noi non lo aspira soltanto questo governo ma tutti i governi che ci hanno preceduto hanno avuto questa aspirazione e praticamente nessuno ci è riuscito secondo i dati dell'Istat lievissimamente nel 2015 la pressione fiscale è calata quindi diciamo la strada è quella giusta ma ovviamente non basta e cosa servirebbe? servirebbe avere margini appunto di flessibilità margini per poter ridurre le tasse che per lo Stato sono le entrate ma questo si può fare soltanto se la crescita economica garantisce che ridurre le tasse non va a sballare i conti pubblici perché noi comunque a prescindere dai parametri di Maastricht parametri europei ma comunque mantenere i conti pubblici in ordine è un elemento di salute pubblica per cui per poter ridurre le tasse bisogna far sì che ci sia il contesto che permetta di farlo purtroppo lo dicevamo adesso nel 2016 le stime di tutti gli economisti sono molto più basse che le stime del governo sulla crescita e questo non lascia certamente diciamo buoni impresaggi Senti Moria siamo partiti soprattutto dalle preoccupazioni degli italiani che alla ripresa malgrado insomma i dati positivi post stentano veramente a credere e adesso diciamo la riduzione delle tasse da dove partiamo un'ipotetica possibile riduzione dalle famiglie dalle imprese mettiamo un po' di pepe anche tra premuti e battaglia così io personalmente se fossi il capo del governo taglierei le tasse alle imprese e le tasse sul lavoro perché sono quelle che poi permettono alle imprese di poter lavorare di poter produrre di poter quindi assumere e quindi di ridurre la disoccupazione quindi io andrei a incidere lì ovviamente sarebbe bello ridurre le tasse a tutti ma siccome la coperta è corta è meglio andare dove c'è la produzione detassare chi produce per far sì che l'economia riprenda vediamo se è d'accordo Paganetto ma io credo che solo parzialmente questa può essere una soluzione perché perché oggi viviamo una situazione critica dal punto di vista della mancanza di domanda cioè il problema è che non è che si produce poco o si produce non abbastanza perché non vogliamo farlo gli italiani non consumano sarebbero ben lieti di produrre di più la verità è che la domanda che si trovano di fronte è una domanda che è minore di quella che è stata in passato e la crescita lo è altrettanto naturalmente se noi per ipotesi ragionassimo nel senso di ridurre i salari vorrebbe dire che automaticamente staremo facendo diminuire la domanda perché i salari consentono quindi bisogna aumentare la domanda bisogna aumentare la domanda questo è quindi tagliare le tasse alle famiglie politiche che vengono fatte in Europa per guardare all'aumento della domanda attraverso interventi che partano dagli investimenti ma non siano soltanto investimenti abbiamo due visioni diverse Longo e Paganetto mi pare di capire Longo voleva sì no io volevo semplicemente aggiungere io sono d'accordo che manca la domanda il problema è capire perché manca la domanda secondo me la domanda manca perché c'è un clima di incertezza molto forte allora se io temo di perdere il lavoro anche se i soldi ce li ho preferisco metterli da parte piuttosto che spendere quindi secondo me per risolvere il problema bisogna incidere prima sul lavoro quindi sulle imprese questa è la mia opinione mi sembra chiara tra poco li vedo scaldati sì sì ci hanno parecchio da dire sentiamo cosa ci cosa ci porta Eugenia sì vi porto le testimonianze dei nostri telespettatori il clima è appunto di poca fiducia ci dicono la mia pensione continua a scendere come faccio ad avere fiducia e a spendere un altro pensionato dice sulla mia pensione ho detrazione di oltre 400 euro e ogni mese con guagli come faccio a essere incoraggiato c'è ancora chi dice io ho quattro figli e nessuno si può curare i denti ma quale ripresa e poi parlano i piccoli imprenditori ho appena dovuto chiudere l'attività aveva sei operai come si fa a dire che le cose vanno bene ancora Anna ci scrive non solo non abbiamo risparmiato l'anno scorso ma abbiamo fatto solo nuovi debiti la nostra piccolissima azienda non può certo investire perché fa fatica a terminare l'anno praticamente alla pari ecco quello premuti che ci porta Eugenia è vostro pane quotidiano perché come associazione dei consumatori di lamentare di questo tipo ne ricevete centinaia al giorno assolutamente sì ma il problema io ho sentito delle ipotesi che sono assolutamente ragionevoli anche quella dell'abbassare l'imposta mi convincono entrambe le ipotesi assolutamente sì no non è grave il problema vero è che dobbiamo partire però a monte da quello che avevamo detto prima razionalizzare la spesa pubblica perché se si razionalizza la spesa pubblica probabilmente ce n'è d'avanzo per ridurre le tasse sia alle imprese che ai consumatori questo è il primo punto ma razionalizzare la spesa pubblica significa non agire solo sulla spesa sociale cosa che è stata fatta fino adesso con la sanità con la previdenza perché quello significa ridurre ma è chiaro se tagli se fa presto se tagli i servizi fai presto a far risparmi ma nello stesso tempo abbiamo aumentato del 40% le spese per consulenze allora anche questo dobbiamo dire la razionalizzazione non si può fare solo a danno di qualcuno e poi a vantaggio di quelle che sono le risorse interne senta Premuti una curiosità voi come associazione oltre a cogliere queste lamentali battaglie ci diceva gli italiani aumentano discount gli italiani spendono meno per mangiare fanno meno della qualità è vero che gli italiani mentre spendono meno per mangiare bene poi tendono addirittura a giocare di più che è un tema che a noi è molto caro assolutamente sì ma questo non è in contrasto perché nella puntata si vede la possibilità del colpo di fortuna dice adesso sistemo la mia vita non è così diciamolo chiaramente non è così perché si cade in un altro vortice che dà ulteriori spese pubbliche tra l'altro perché poi la ludopatia così si chiama diventa diventa una malattia una patologia che poi dobbiamo andare a curare e quindi spendiamo altri quattrini però vorrei sentire battaglia sulla vicenda appunto dove tagliare le tasse no? e mi pare che il punto di accordo sia quello che diceva Premuti battaglia la prima cosa da fare è razionalizzare la spesa pubblica che finora non ci è riuscito quasi nessuno nessuno direi no? allora a parte questo uno non ha voluto uno non ha voluto o uno non ne hanno fatto fare allora io direi anche altre cose molto importanti che sono state soltanto accennate allargare la base imponibile sono tantissimi anni che si dice che le tasse le pagano sempre i soliti cioè coloro che hanno il reddito controllato che si taglia la fonte aumenta sempre di più è stato fatto un accenno ai pensionati dichiarazioni freschissime che chi oggi ha 35 anni andrà in pensione a 70 anni prendendo una pensione direi veramente simbolica i pensionati sono tartassati perché ormai la rivoluzione delle pensioni ce la possiamo dimenticare credono ho accennato prima al peso enorme della tassazione a livello locale ma quali servizi ha il cittadino italiano pagando tutte queste tasse se me lo dite voi e me lo fate presente forse non so riusciamo a vederlo insieme detto questo ma non si è parlato anche di un altro dato che ovviamente inclina di parecchio il nostro PIL cioè le imprese che agiscono nella legalità con molta fatica sono molto svantaggiate rispetto alle imprese che agiscono nella illegalità corruzione è uno dei mali che potete straticare va bene noi anche come associazione di categoria abbiamo fatto molti studi molti eventi su questo ma sapete bene che come riciclaggio rispetto al PIL italiano noi siamo quasi il doppio rispetto al riciclaggio a livello mondiale vogliamo parlare di questo continuiamo a parlare di questo della corruzione ultimissima notizia dell'autorità sull'elettricità e l'energia e quant'altro visto che ci sono 60 miliardi non si sa dove sono finiti in interventi fantasma nelle forniture idriche se questo continua allora è chiaro che questo appesantisce di parecchio il debito pubblico siamo in conclusione il nostro è un paese strano ma è un paese in cui come è stato detto in fondo si fa molta spesa pubblica ma questa spesa pubblica non sempre corrisponde a servizi effettivamente erogati cioè non c'è un rapporto sono di dove vanno a finire beh questo lo sentiamo molto spesso in televisione lo leggiamo sui giornali fanno giri strani questi soldi però voglio dire il punto importante è che si può ridurre la spesa pubblica senza ridurre i servizi è chiaro che l'incertezza di cui stiamo parlando che non ci fosse quella illegalità di cui parlare la battaglia però l'incertezza di cui i consumatori i pensionati sono vittima è proprio rispetto alle aspettative del futuro e questo influenza moltissimo il loro comportamento è chiaro ma è anche vero che noi non possiamo uscire da questo circolo vizioso perché giustamente è stato detto questo è il cane che si mangia la coda allora bisogna fare in modo che a fronte di questa spesa ridotta ci sia non diminuzione di spesa ma una spesa che altrettanto razionalizzata che porti in una direzione che è quella di ergo c'è un lungo lavoro da fare mi pare proprio di capire che sia proprio così grazie a professor Pagaretto grazie a Battaglia grazie a Premuti grazie a collega Moria Longo da Milano noi adesso andiamo in pubblicità ma subito dopo parleremo di ricordi e di memoria insomma faremo un viaggio un viaggio pieno di emozioni tra ricordi personali e memoria collettiva un'ora da non perdere qui siamo noi state con noi